Una nuova battaglia dei verdi contro l'inciviltà. Per sensibilizzare l'opinione pubblica, sulla spiaggia della Rotonda Diaz a Napoli sono stati regalati questa mattina i bagnanti del cosiddetto Lido Mappatella portacicche portatili per evitare di disseminare mozziconi sulla sabbia o per strada. Un flash bomb per l'ambiente, quello degli attivisti di Europa Verde, rappresentati dal consigliere regionale della campagna Francesco Emilio Borrelli, indirizzato a chi fa finta di non sapere che dal 2016 vige nel paese una legge che lo vieta. Il flash mob è stato dedicato al maresciallo dei carabinieri che pochi giorni fa è morto colpito da un infarto dopo un litigio con dei bagnanti che avevano buttato cicche in mare su una spiaggia della Calabria. Borrelli ha inoltre annunciato anche una prossima iniziativa contro i proprietari di cani che non raccolgono le deiezioni dei loro amici a quattro zampe. Dobbiamo dire che ci sentiamo di fare un appello alle case di fumatrici e anche al Ministero. Si fanno tante campagne giustamente contro il fumo ma vogliamo farne una forte campagna contro le cicche? Mettiamo sopra le sigarette oltre le immagini di chi si ammala per tumore cosa fanno le cicche di sigarette nel nostro mare, nel nostro terreno. Sapete che le cicche di sigaretta sono il primo motivo nel nostro territorio per cui si, tra virgolette, appilano le caditoie? Cioè voi vi rendete conto? Noi ci lamentiamo che vergogna! Chiaramente dovrebbero lavorare di più qualora ci fossero i soggetti che devono pulire i nostri tombini e le nostre caditoie. Ma il primo motivo è la presenza di cicche perché sono piccole e si incastrano. La nostra battaglia di civiltà che andrà di pari passo con un'altra battaglia di civiltà, cioè quella della distribuzione delle portadeiezioni canine, visto che alcuni pensano di amare gli animali abbandonando invece le loro deiezioni in mezzo alla strada, creando grandi disagi ai cittadini.